Eccoci quindi allo stand di AS Labruna, lo stand FPT con Massimo Labruna, titolare dell'azienda Massimo bentornato sul mondo Barca Market Buonasera Noi ci siamo visti l'anno scorso sempre qui allo stand Al Nautic Sud Al Nautic Sud E abbiamo parlato del motore da 1000 cavalli Sì, il C16 che era la novità dello scorso anno Adesso invece alle spalle abbiamo uno da 6,50 Sì, abbiamo il nuovo C9 6,50 Evo Che è la novità di quest'anno al Nautic Sud Che ha diverse caratteristiche che sono peculiari per il diporto Questo motore appartiene alla nuova serie della gamma Cursor E ha tra le novità più importanti, oltre al turbo compressore, un compressore volumetrico Che agevola molto le planate Perché permette di avere una coppia notevole anche da bassi giri Quindi questo per il diportista si traduce in un consumo ridotto Certamente Perché riusciamo a planare, quindi la barca esce dall'acqua prima Il motore sforza meno Perfetto Però abbiamo qui il motore da 6,50 Ma FPT non ha una gamma limitata solo alle grandi motorizzazioni No, FPT parte degli 85 cavalli e arriva appunto ai 1000 cavalli Perfetto Qui abbiamo voluto portare la novità di quest'anno Anche perché questo motore insieme al 1000 E insieme a tutti i motori della nuova generazione Si interfaccia con i nuovi sistemi elettronici del Red Horizon E anche ai comandi con i joystick Che permettono di manovrare la barca con molta semplicità Quindi anche l'utente più inesperto può avere un maggior controllo della barca Esatto Va benissimo Quindi amici lettori, noi abbiamo appena scoperto l'ultima novità qui da FPT Ringraziamo Massimo Labruna E non perdete le prossime interviste Le prossime novità sempre qui al Nautic Sud Quindi seguite tutti i nostri canali E noi ringraziamo ancora Massimo Grazie Massimo, alla prossima Grazie